Un caffè con Giorgia oggi in compagnia di Filippo Volandri, capitano della squadra azzurra di Coppa Davis, subito dopo questa fantastica vittoria. Ciao Giorgia, è un onore e un piacere. Grazie a te Filippo. Inizierei subito con il nostro caffè. Ci voleva per carburare. Filippo non posso che complimentarmi con te e con tutti voi per la vittoria della Coppa Davis, ci avete davvero fatto sognare. Sì ed è questo anche la parte bella, di aver fatto sognare gli italiani, di aver veicolato un messaggio poi di bravi ragazzi, di lavoratori, questo è stato molto molto importante e ci rende molto orgogliosi, è un percorso che parte da lontano, lontanissimo direi, anche se sono passati due anni e mezzo ma sembrano una trentina, però ricco di soddisfazioni, abbiamo attraversato momenti difficili, quei momenti ci hanno compattato, hanno cementato il gruppo e sai quanto io tengo poi al lavoro di squadra. Infatti io da ex tennista so tutto quello che c'è dietro la gestione di un giocatore, la sua fisicità, la parte psicologica, la gestione dei tempi, dei viaggi, però da te vorrei sapere oltre la gestione del singolo campione come è stato con Yannick Sinner che ci ha fatto sognare anche lui, anche proprio la gestione del team della nazionale. Sì allora non lo faccio da solo, ho un team alle mie spalle che comunque mi aiuta in questo e va sottolineato perché sono persone strepitosi che mi hanno accompagnato in questo grande viaggio, con l'idea di creare prima un gruppo nel primo anno, una squadra nel secondo e nel terzo abbiamo iniziato a toccare la parola vittoria, quindi c'è proprio un percorso studiato di ragazzi che poi venivano anche da generazioni diverse, esperienze diverse, competenze diverse, quindi è uno sport che poi tu conosci bene, essere prettamente individuale, quindi dare quel senso di appartenenza è stato importante nel quotidiano e infatti poi alla fine tanto questi grandi risultati li ottieni se poi è un gruppo che funziona. Certo e noi da pubblico lo abbiamo percepito, anche il fatto che Berrettini sia venuto senza poter giocare, abbiamo proprio percepito questa unione, questa squadra ed è stato bellissimo. Sì Matteo ha dato un contributo enorme, al di là del fatto che non potesse poi scendere in campo però solo la sua presenza, anche per un giocatore come Gianni che comunque oggi porta a casa una Davis, porta a casa uno Slam, titoli mille, aver Matteo è stato molto molto importante per me perché poi comunque Matteo è stato un po' il mio primo progetto nel settore tecnico, quindi averlo adesso è stato molto importante e questa è un po' la promessa con Gianni e con gli altri giocatori, quindi cercare di rivincerla con Matteo in campo. Certo adesso la gestione di Gianni sarà ancora diversa perché insomma ha davvero fatto la storia, quindi hai proprio un gioiellino per le mani. Sì ed è un gioiellino di persona, a me piace sempre soffermarmi anche sulla parte personale, il benessere della persona per un giocatore è importantissimo e su questo spesso ci soffermiamo, lui è naturalmente geniale per molti aspetti, ha una cultura del lavoro, ha una cultura del miglioramento, quindi non si limita soltanto al raggiungimento della vittoria ma si vuole vedere migliorare e di conseguenza tiene alto il livello, non ti puoi distrarre, anche quando sono in campo con lui, se lui ti fa una domanda tu hai tre nanosecondi per dare la risposta esatta, altrimenti si va in difficoltà, però poi ti dà tantissimo. A me una cosa che ha colpito è stata l'intervista subito dopo la vittoria della Coppa Davis in cui hai raggiunto un risultato storico, lui ha risposto adesso pensiamo già a domani. Lui funziona così e noi impariamo da lui anche in questo, abbiamo raggiunto un obiettivo importantissimo, la vittoria della Davis dopo 47 anni con una squadra giovane, chiuso un obiettivo se ne apre un altro ed è anche un po' quello che io ho detto agli anni quando ci ha raggiunto in Coppa Davis, noi eravamo già a Malaga, gli anni giocava alle Finals, ci ha raggiunto e io ho detto questo è l'ultimo applauso che prendi perché si è concluso il capitolo Finals, da oggi se ne apre un altro ed è quello della Davis. Questa è la mentalità dei campioni. Sì, sì, ci proviamo, ci lavoriamo, deve avere la disponibilità dei ragazzi, però torno a dire, il gruppo ha fatto tanta differenza. E per te com'è stato passare dall'azione sul campo all'adrenalina che invece hai diversa behind the scene, in questo caso al lato del campo? Sì, a disposizione dei ragazzi, è importantissimo per me il percorso nel settore tecnico, sono sette anni che sono il direttore tecnico del settore maschile, questo mi ha aiutato tantissimo. Abbiamo riportato anche un po' il sistema del settore tecnico in Coppa Davis, mi ha aiutato davvero tanto, aver giocato tante volte in Coppa Davis mi ha aiutato, quindi averlo fatto da giocatore sapevi che cosa ti piaceva, che cosa non ti piaceva, quindi avevi già la possibilità di limare un po' gli errori. Anche la gestione dell'emotività, nel senso che la Coppa Davis è comunque sempre una competizione a sé. Diversa, hai la responsabilità dei tuoi compagni, cosa che nei tornei non hai, hai la responsabilità di una nazione che ti sta guardando, che nei tornei hai fino a un certo punto, però decisamente diversa, c'è un lavoro dietro, si studia, si studia tantissimo, l'esperienza è l'unica che non compri da nessuna parte, quindi anche io ho fatto un po' di esperienza perché poi non avevo mai fatto il capitano di Coppa Davis ovviamente, adesso ne ho di più, ne farò ancora, però ecco quelle esperienze, anche la gestione delle difficoltà, e ci sono state, mi ha aiutato molto. Comunque sai Filippo, è bellissimo ritrovarti dopo tantissimi anni dai nostri tornei juniores. Non diciamo qua, non diciamo quanti che è meglio. Però non abbiamo più solo una passione in comune, cioè quella del tennis, ma anche quella degli orologi Gerald Charles. Verissimo, gli orologi Gerald Charles sono stati per me una scoperta. Già il fatto di poter pensare, di poter giocare con un orologio, cosa che oggi dove si va a limare veramente il grammo è incredibile, quindi questa vicinanza anche al mio sport, al nostro sport, quindi al tennis è stata fondamentale. Infatti io in tuo onore ho indossato il Gerald Charles GC Sport Schelet in titanio che pesa circa 50 grammi, io lo uso anche per giocare e l'orologio non lo sento nemmeno. Io invece un GC 3.0, avendo smesso di giocare e dovendo stare seduto in panchina e quindi non devo più tenere la racchetta in mano, mi dà quell'importanza diversa. È bellissimo, poi il mio colore preferito, verde. E poi avere anche toccato il colore verde, che è un colore che si vede, è un colore importante, questa tonalità di verde lo rende veramente speciale. Sì, è molto bello. Io con questo sono molto contenta perché il blu mi piace e i cinturini di Gerald Charles sono uno degli aspetti del loro marchio che mi ha colpito fin da subito e poi questo sembra fatto apposta per me perché io lo indosso sulla destra, pur essendo destrorsa e c'è la corona di carica ovviamente sul lato sinistro dall'altra parte. Quindi Octavio Garcia ha fatto un lavoro top. Sì, ha fatto un lavoro strepitoso perché poi non si accontentano, perché reinvestano, guardano al futuro, all'innovazione. Chissà se non spoileremo niente, però visto che il blu è l'azzurro, è il colore della nazionale, chissà. Eh, staremo a vedere. Staremo a vedere. Filippo, ultima domanda per te. Se potessi tornare indietro del tempo, dove andresti? Mi piacerebbe avere la struttura che noi oggi cerchiamo di dare ai giovani, quindi per quanto riguarda il mio sport, mi piacerebbe avere più persone nel mio team, investire di più nel mio team, cosa che in realtà ho fatto poco e alla fine poi ti porta ad avere risultati diversi. Se non avessi giocato a tennis, forse avrei fatto l'avvocato. Mi piace scoprire le storie, difendere le persone. Questa è una parte che a me interessa molto, però sono veramente molto contento di tutto quello che ho. E devi esserlo. Grazie mille Filippo. Grazie a te Giorgio. Grazie a te Giorgio.